Ieri sera a fuori dal coro il presidente Meloni spiega per chi ancora non l'avesse capito che la Russia ha invaso l'Ucraina perché Putin ha detto che vuole ripristinare i vecchi confini della Russia antica e che aiuta l'Ucraina non cerca una guerra, anzi cerca di aiutarla a sedersi al tavolo delle trattative perché voglio dire una cosa che io francamente anche rispetto al tema guerra mondiale, rischi eccetera una cosa che io continuo a rispedire al mittente è l'idea secondo la quale chi cerca di aiutare l'Ucraina vuole la guerra e quasi quasi i russi che l'hanno invasa sono quelli che vogliono la pace ora io penso che bisogna fare mezzo passo indietro perché Putin ha invaso l'Ucraina? Putin ha invaso l'Ucraina dichiarando che vuole riportare la Russia alla sua grandezza di un tempo che vuole ripristinare i confini storici della Russia i confini storici della Russia ragionevolmente incorporano Ucraina, Moldova, Georgia, i Baltici una parte della Finlandia volendo anche la Polonia quando c'è stato il ritiro rovinoso da parte dell'Occidente dall'Afghanistan e è stato dato un segnale oggettivamente di debolezza Putin ha deciso che quello era il momento di tentare quello che aveva in testa era una guerra lampo che gli avrebbe consentito di invadere l'Ucraina in qualche giorno e se questo fosse accaduto temo che non si sarebbe andato avanti quindi quello che fa chi cerca di aiutare l'Ucraina è allontanare la guerra rispetto alla possibilità che arrivi nel cuore d'Europa non è facilitarla perché se fosse riuscito o se riuscisse quello che oggi dicono quelli che sostengono che bisogna l'Ucraina si deve arrendere noi ci ritroviamo una guerra che è molto più vicina a casa nostra invece l'abbiamo fermato lì l'ultima cosa su questo scusi, dico solo questo mi faccia dire solo questo lo abbiamo fermato lì e secondo me se non molliamo lo costringiamo anche a sedersi a un tavolo delle trattative per cercare una pace giusta che è ovviamente l'obiettivo che abbiamo perché non è che ci divertiamo nell'attuale contesto si figuri Mario quindi l'importante è che noi sappiamo qual è l'obiettivo che vogliamo ragazzi vi è piaciuto il video? beh cosa aspettate? iscrivetevi al canale